il nostro Marco Manera a rieccoci qua come sta tutto a posto? Vi state divertendo? tutto buono e benedetto chi mi conosce sa che io da anni ormai porto avanti una filosofia di vita una filosofia di vita che è Sebastisà signora Nuccia ci piace e uomini e donne siamo diversi ma diversi con la E aperta anzi diciamoli insieme perché porta soldi uomini e donne siamo diversi cadute pure dicci su stasera è così no è vero è così è così siamo diversi da che cosa si capisce siamo diversi? dal fatto che una donna la donna fa dieci cose contemporaneamente l'uomo le uniche due cose che sape fare contemporaneamente è tagliarsi il tic toc mentre ha settato il nuovo gabinetto basta l'applauso delle donne la donna la donna si fa la doccia per il piacere di usare lo shampoo alle sette erbe il balsamo agli agrumi l'uomo si fa la doccia per il piacere ripisciare ci dai dice che è schifo c'è domanda su suo marito signora è vero la donna la donna è come l'anguria più matura e più esprime il suo sapore l'uomo è come a banana più matura e che sa muscia peschino siamo diversi siamo diversi c'è proprio che si capisce per esempio la donna per esempio ci piace una cosa che gli uomini non sopportano la donna ci piacciono i nomignoli amorosi per la donna il nomignolo amoroso è il simbolo dell'amore per l'uomo è il simbolo rama la figura che farà con tutte ci sono nomignoli amorosi terribili ci sono chiedi del mulino bianco crostatina tegolino a natale pandorino che te venissi di pigliare a ruota lo mulino bianco e scacciare c'è la testa poi ci sono quelli anatomici quelli anatomici cuore sangue sciato ma chi è un'autopsia poi ci sono quelli veloci quelli del 2024 che andiamo a spicciare subito amo jo teso cuo vi che a tutti immagini si cato zitta amo sei un teso jo del mio cuo ma chi è latino ci vuole vocabolario per parlare con me poi ci sono quelli vegani che si usano quelli vegani patatina cipollotto carotino caduto immagini a chi è tornato a casa donne è arrivato carotino caduto immagini ma l'apice del nomignolo cretino si è raggiunto nel 1990 al festival di Sanremo lo sapete tutti e allora ti chiamerò trottolino amoroso non ci abbastò trottolino amoroso trottolino amoroso la canzone in questione si intitolava battene amore e ci credo che se ne va a chiamare così ma come siamo diversi siamo da queste cose da queste cose le donne io chi sono lo capiamo voi donne avete un linguaggio che noi uomini non capiamo cioè io l'altra volta c'era la mia fidanzata che parlava di capelli c'è avete un linguaggio che noi non capiamo parlava di capelli al telefono con la sua amica e la telefonata era ma non lo so sono indecisa mesh chatouche degradé a me mi parevano iucature alla Francia tant'è che a un certo punto a mezzita medallia mi fa amore che ne pensi chatouche o degradé totò schillaci tutta la vita eccelissimo ma che bu non ci capiamo non ci capiamo le donne avete un linguaggio l'altra volta mi fa mezzita amore io c'ho la ritenzione idrica che hai tu la ritenzione idrica che ho sentito idrica mi pareva che c'era acqua in terra chiamiamola idraulica cretina la ritenzione idrica significa che il mio corpo trattiene troppo i liquidi il mio corpo trattiene i liquidi e piscia che ho spesso chi vuoi la vita mia trattiene i liquidi cretina le ritenzioni idrica guarda è ghisa la coscia aspera guarda guarda no è successo un incidente inquadramolo già ti sei fatto niente tutto a posto un applauso è il bello tu sei il bello della diretta il bello della diretta peggio eravamo allora eravamo come si lasciava la ritenzione idrica a un certo punto isa sta coscia sarà stata la parola coscia ma che te voglio dire è la cosa porno ma non lo so quindi a me si da isa la coscia e mi fa guarda questa è tutta pelle a buccia d'arancia è tutta pelle tu questa è tutta buccia d'arancia ci siamo ore ci dà la coscia amore chi sta o ne buccia d'arancia chi sta cutre il porco ascoltami